Non hanno un lavoro e non lo cercano. Mentre diminuiscono gli usoccupati, un altro dato fa preoccupare, l'aumento degli inoccupati. Dal territorio è un'iniziativa per dare nuove opportunità ai giovani. Si tratta di un percorso formativo gratuito che insegna a cercare lavoro in modo efficace. Il progetto è di Living Land, è sostenuto dai comuni dell'ambito di Lecco e da quelli del Polo Brianza e realizzato in collaborazione con il Servizio Educativo al Lavoro Mestieri Lombardia. Si rivolge ai ragazzi tra i 17 e i 28 anni che non studiano e non lavorano, residenti nei comuni di Annone Brianza, Bosisi e Oparini, Bulciago, Castello di Brianza, Cesana Brianza, Colle Brianza, Costa Masnaga, Dolzago, Ello, Galbiate, Garbagnate e Monastero, Molteno, Nibionno, Oggionno, Rogeno, Sirone e Suello. Tre candidati saranno selezionati 12 partecipanti sulla base di un colloquio conoscitivo e del proprio curriculum. Alla fine del corso, a chi non avrà già trovato lavoro, sarà proposto un tirocinio a tempo pieno per 4 mesi con un'indennità mensile di 500 euro presso aziende, cooperative o esercizi commerciali. Per candidarsi bisogna mandare un'email all'indirizzo gilardoni-mestierilombardia.it entro domenica 3 aprile allegando copia del documento d'identità, del codice fiscale, del permesso di soggiorno in caso di cittadini stranieri e curriculum vite. Per ulteriori informazioni si invita a contattare il servizio educativo al lavoro.